Ciao a tutti ragazzi, sono Dami ed eccoci qui con un nuovo episodio di Minecraft Tech Kit Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati che avevamo fatto metà pavimento e quindi dovevamo andare a cercarci il marmo Girando un po', laggiù ho trovato un vulcano, quindi potremmo prenderci anche del basalto, ecco, che è molto bello insieme al marmo Però dobbiamo cercarci anche il marmo, che sinceramente non so dove possa essere Ecco, qui c'è un vulcano Ok, sì Eccoci Vulcano molto bello, sì, sì Interessante Andiamo sulla punta per vedere un po' come stanno le cose qui Ecco Sti, cioè, sti, sti vulcani non hanno senso proprio Laggiù c'è un altro vulcano? Ok, questo è un altro vulcano bello Ecco, questi sono vulcani, no Oddio, guardate che figo Uh, me la Me la mangio tutta Guardate che figo Go, ah, deve ancora cadere la lava Perfetto Oh mio dio, quindi arriverà qui la lava Vabbè, qui dovrebbe Cioè, dovremmo star al sicuro qui Si sta anche facendo notte Quindi Non va molto bene, però fa niente Là c'è un'altra mela Qui Spacchiamo un blocchettino Anche qui Anche qui Che figo Bello Questo vulcano è proprio bello, mi piace Prendiamo se c'è qualcos'altro No X Figo Uh, forse laggiù c'è un canyon Perché vedo una cosa enorme Però è notte Quindi dobbiamo andare a causa A dormire Ok, che figo Mi piace Andiamo solo a casa, va Prendiamoci gli alberelli Guardate qui cosa c'è Grotta E Ma si, dai, ci andiamo Dobbiamo poi farci anche Una Un'armatura Marmo Si, finalmente Quindi possiamo finire La nostra Cagetta Dice Un creeper Non credo che riesca a passare Non esplodere Perfetto Ok Direi Qui Di chiudere E Qui cosa c'è Qui di illuminare Oddio C'è una cosa Strana Una Una cosa Abbandonata Devo dire che non mi piacciono Le cose abbandonate Perché fan paura Ok, lì ci sono rubini Vabbè, poi ci veniamo qui Qui non si può passare Perfetto Ok, prendiamoci subito Un bel po' di marmo Così almeno ci finiamo Il nostro bel pavimento Il piccone di ferro l'ho preso Sì, perfetto Ok Ci prendiamo Tanto Qui cosa c'è Illuminiamo Allora Copper Ferro Ok, poi zaffiri Uranio Molto bene Quindi Allora Però prima finiamo di Ci prendiamo uno stack Di Di Coso qui Di marmo Poi Vediamo un po' Cosa fa Prendiamo un bel po' Di materiali Ok Piccone Adoro il marmo Perché si spacca velocemente E poi è anche bello Quindi Doppia cosa positiva Allora Uno E due Quindi dovrebbero venerci Sì, sì Sessantaquattro pezzi Ci bastano di sicuro Quindi Prendiamo questo Così Prendiamo un po' Di cose Il copper ci servirà Tanto 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 Ma Anche Molto il ferro Quindi Allora Non ho legno Però Visto che c'è una miniera Abbandonata laggiù Non direi che Sto male Cioè La legna Mi può servire per farmi Una crafting table E alcuni stichetti Dato che non mi Sono portato legna dietro E nel caso dovessi farmi Una Una Un altro piccone Eccetera Allora Allora Qui c'è ferro Beh è una bella grotta Comunque E qui si va giù E lì c'è Tin Mi sembra Però Allora Qui Si sa No Non si sale Oppure qui è chiuso Guardiamo Qui è chiuso Perfetto Quindi direi di Andar su Di qui Ok Copper Ne abbiamo già tanto E comunque Perché Si ci serve Però Comunque Possiamo anche Tralasciare A volte Qui c'è un ragno Che di sicuro Non me lo faccio Scappare Che vale tanto 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 Poi Uranio Eccolo L'avevo visto Infatti Infatti Diamo Altro Copper Vedete Ce n'è tanto Quindi Dovessi cercarlo Non è un problema Perché si trova facilmente Anche E quindi Direi di Lasciar stare I zaffiri Invece Possiamo farci anche Di piccoli zaffiri O O altro Che Sono Sono più veloci Del Del ferro Quindi È anche una cosa positiva Mangiamo anche Qui cosa c'è? Ok Copper Vedete È pieno Però Comunque Allora Carbone Io direi di Prendermene un po' Tipo Tre o quattro pezzi Eh Proprio per farci alcune torce Dopo che prendiamo il legno Qui c'è qualcosa No Allora Ma arma siamo a posto Dobbiamo prendere assolutamente Il ferro Che ci servirà tantissimo Ci dobbiamo anche fare un'armatura Poi Quindi Fino a bian meglio è Altri due pezzi Mi sembra che Si andava di qui per Sì Eccola là Qui cosa c'è? Qui c'è ferro Tanto carbone Ah li ho chiuso Ok Poi Oddio Bisogna ricordarsi poi da Dove siamo arrivati Dov'è? Ah Ciao Ok Quindi Laggiù C'è Secondo me Uno spawner di ragni E quindi Non ci andrò Allora Dove era la cosa Di qui No Aspettate L'ho vista prima Perfetto Ah di qui Ok Da qui siamo arrivati Quindi Si va di qui Allo Ah Ecco Guardate Lì c'è il basalto Ed è la colonna Del vulcano Vedete Nella minimappa Che è sopra di noi Guardate Lava Oh cacchio Vabbè Lasciamola lì Ok Ah Zaffiri Eh no Sì No Smeraldi Ecco Allora Qui Ecco Io odio qua Guardate Si va da una parte All'altra Ed è una cosa Molto brutta Secondo me Qui non si va da nessuna parte Bene Molto bene Allora Io Dico subito Che Perfetto Di sicuro Non vado laggiù Allora Pietra Pietra Oh Laggiù c'è proprio Una spawner L'ho visto Qui invece c'è ferro Che lo prendiamo Di sicuro Ragnatele Spero solo che un creeper Da dietro non mi arrivi A uccidermi Allora Direi di spaccare Perfetto Molto bene Dai però Speragnatele Ok Allora Ci spacchiamo Oh cacchio Sei o sette pezzi Sei pezzi Così Oppure otto Vabbè Prendiamone otto va Ok Intanto saremmo Sui 15 minuti Quindi Magari adesso Stoppo il video C'è una cesta Laggiù mi sembra Di aver visto Boh Laggiù Boh Comunque Per questo episodio È tutto Dal prossimo Andremo Avanti Nella perlustrazione Di sette Cose Qui Che io odio E Quindi Io vi saluto qui E Ciao a tutti Ok perfetto Stavo scherzando Perché siamo intorno Di 12 minuti Quindi Andiamo avanti Ci facciamo una bella Tavola da lavoro Allora Facciamo Due picconi Per ora Ma si dai Ah potevo farmi anche un ascia Vabbè Quello lo facciamo a casa Allora Andiamo avanti Avevamo trovato I mob spawner Che non mi ricordo Dove sono Che li ho visti 5 secondi fa Quindi 5 secondi fa E tanto Quindi Avete anche Un po' di Comprensione Nei miei confronti Ah già Gli smeraldi Assolutamente Bisogna prenderli Perché brucia Quella cosa Ok Perfetto Normale Ok Noi arriviamo da lì E quindi Qui non c'è niente Qui Quel copper Non mi interessa Qui Proviamo ad andare di qui Ho già paura Oddio cacchio Ma vaffa Io li odio Sti ragni di merda No ti prego Non mi fighiare Cacchio Una No 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 Una spada Super Figa E non riesco a Oh mio dio Raggiù un creeper Oh mio dio No 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 Io laggiù Non ci vado Mi dispiace Insultatemi Ma io Laggiù Non ci vado Io Con le Queste caverne Io le odio Proprio Una cosa Non so Quindi Mi dispiace Ma È così Allora Allora Facciamoci Del torce E ci prendiamo Altri Blocchi Di legno Madonna Mi sono già Spaventato A morte Quei ragni Io li odio Proprio Una cosa Impossibile Vabbè 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 Allora Cercando Di Guardare Le cose Importanti Guardate Cacchio Le odio No 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 Basta Ho deciso Che si va Via Perfetto Quindi Ora saliamo Anche perché è giorno E non voglio andare su Quando è notte Quindi Ora che ci siamo Andiamo su L'importante È sapere Come si fa Ad andare su Credo di qua No Non era di qua E di qui Forse Forse sì Se ce la facciamo salire No Credo di no O forse sì O forse no Allora No Non era di qui Perfetto Però Credo Che Possiamo andare su Lo stesso Perfetto Acqua Se Magari Non Anneghiamo Ok La nostra Bella Casa È Di là Ok Quindi Abbiamo un po' Guardate che bello Allora Abbiamo un po' Di materiali Sì Ne abbiamo abbastanza Così ci possiamo fare Anche una bella armatura Oh 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 Scheletro Ah no Dovevo stoppare il video Perfetto Quindi L'episodio finisce qui E ciao a tutti L'episodio finisce qui Grazie.